Salvare la Casa del Podestà da interventi che possano comprometterne il valore artistico e culturale è la richiesta che il Circolo Locale di Le Ambiente ha fatto pervenire alla soprintendenza di Salerno. Una necessità di tutela ribadita con forza anche durante il flash mob organizzato nei pressi della struttura sabato mattina che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini. Sul complesso in questione, va ricordato, gravano anche le intenzioni testamentarie dell'ultimo proprietario il quale ha chiesto che l'edificio, dopo la sua dipartita, sia adibito a casa di ricovero per anziani. Non vorremmo svegliarci una mattina e trovare non più il Palazzo del Podestà ma le macerie, le sue macerie in vista di una costruzione di un ennesimo parco residenziale. È un flash mob il nostro preventivo e dimostrativo e già l'amministrazione comunale si è schierata a nostro favore nella giornata di ieri e di oggi proprio per sottolineare l'azione di tutela e di presidio che va fatta verso un monumento che va assolutamente riconvertito, ripensato ma nell'ottica di una rigenerazione urbana e della sostenibilità cittadina assolutamente. Quindi noi scongiureremo qualunque tipo di scempio perché Ponte Cagnano ha già un territorio profondamente deturpato e dobbiamo insomma, come dire, invertire la tendenza. Anche il PUC, il piano urbanistico comunale, deve essere ripensato favorendo le zone verdi, le aree verdi, la sostenibilità e la vivibilità e lasciando una piccolissima parte al cemento. Siamo già troppo invasi.